Al via nei prossimi giorni la campagna antinfluenzale 2024-2025 della Calabria, che vedrà anche quest'anno la collaborazione delle farmacie che hanno aderito al protocollo nella distribuzione e somministrazione dei vaccini. Insieme alla vaccinazione antinfluenzale sarà possibile ricevere anche la somministrazione del vaccino anti-covid. I cittadini potranno prenotare il proprio appuntamento contattando direttamente le farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Le farmacie calabresi, dichiarano Vincenzo De Filippo e Alfonso Misasi, presidente e segretario di Federfarma Calabria, rappresentano un ulteriore riferimento del sistema sanitario sul territorio, grazie al quale viene garantita la prossimità e la tempestività di risposta ai cittadini, soprattutto in merito alle varie campagne vaccinali. La somministrazione in farmacia completa l'offerta vaccinale venendo incontro alla popolazione anziana e a quella parte di assistiti che, per la sua comodità, preferisce sfruttare la prossimità della rete dei presidi farmaceutici. Anche questo inverno, pertanto, tutti i cittadini calabresi over 60 potranno usufruire gratuitamente della vaccinazione antinfluenzale nella propria farmacia. Proseguire sulla strada tracciata dalla farmacia nei servizi è determinante perché si possono offrire ulteriori prestazioni per la tutela della salute.